Diciamo dalle tastiere, signori, direttamente da Bologna, un grande applauso per Alex Cocchi. Alex Cocchi! Alla batteria, sempre da Bologna, Roberto Bernardi. Vai, Roby! Al basso, direttamente da Punta Marina, provincia di Ravenna, Gabriele Mastantuono. Gabriele, sta bene lui! Alla chitarra, signori, un veterano dell'orchestra dal 1989 con Castellina Pasi. Chitarra e voce, Gabriele Falchieri. Grande Gabriele! Adesso arriva lui, sax, cranietto, flauto, un po' di tutto. Direttamente da Ferrara, Michele Felloni. Il mitico! Alla tromba, lui invece arriva da Cuba, Harold Ingles. Grande Harold! Poi, signori, trombone e voce, direttamente da Padova, Max Fendi. Grande Max! New M, New M, lo conosciuto stasera. Arriva da Firenze, invece, il nostro tecnico del suono, dal 1999 con l'orchestra da Castellina Pasi, Marco Bandinelli. Grande Marco! Poi, come sempre, ve lo presento, il mio braccio destro da Padova, come me, Ermanno, la terza. La voce femminile dell'orchestra da Castellina Pasi, vieni qui con me. Un bel applauso da Latina, arriva Elena Camarone. Grazie! Allo Carina, direttamente da Bologna. Da Budrio! Da Budrio! Maurizio Rizzi! Allo Carina! La so suonare bene io, Allo Carina! No, tu non hai sentito niente, eh? Ecco, ma che io dico? E allora, cari amici, per ultimo, ma ovviamente, non per ultimo, ma solamente perché ci ha dignitosamente presentato a tutti, Nicola, la terza! Grazie! Grazie mille! Nicola, l'ultima cosa!